Adesso è un caso in cui ho sperato, ho detto, speriamo che non mi dia la parola, sarò rapidissimo, rispondo Beh se si, coraggioso come un rider Sono coraggioso come un rider, allora sarò sincero e non sto cercando di essere equilibrato per forza Sono d'accordo con Michela che quando un uomo politico se la prende con qualcuno di noi Che anche usa dei toni molto caldi o sbaglia perché i ruoli sono diversi Quindi qua sono con Michela, sono credo più d'accordo con Alessandro e Michela non con te Per me figliuolo fa benone a girare con la divisa Perché ricorda a tutti che la politica non ha saputo fare certe cose e ha dovuto intervenire l'esercito Un poliziotto alla stazione Termini per questo ha il diritto di chiedermi, come dire, di motivare le mie opinioni politiche Mentre mi sta controllando l'autocertificazione Ma è evidente no E allora è questo il punto, la questione non è figliuolo Io posso esprimere il mio parere sull'uso del linguaggio militare in ambito civile Ma un poliziotto che fa il suo lavoro e mi deve controllare i documenti, mi deve controllare i documenti e basta Non le opinioni politiche Michela, certo che il poliziotto ha sbagliato Beh mi fa piacere, sentitelo dire perché mi sembri reticente Secondo me figliolo fa bene andare in giro in divisa, tutto qua Bene, va bene, allora, allora Grazie a tutti